Genoa che attacca da destra a sinistra con la Juventus come ha detto in completo giallo e inserti blu che fa evidentemente il percorso opposto, subito si propone Pandev, su di lui la presenza di Alessandro, Pandev, Pandev dentro l'area, il tocco, la palla in rete, sono passati 19 secondi, 19 secondi, autorete di Giorgio Chiellini, passa in vantaggio il Genoa, incredibile Amarassi. Incredibile Amarassi al primo affondo, alla prima azione della partita, nemmeno il tempo di schierarsi, il tiro di Chiellini, la palla rimbalza su Pjanic, la palla rimbalza prima su Chiellini e poi su Pjanic, nulla da fare per Buffon.